Negato il diritto di chiedere la correzione della pena all'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro perché l'aumento di pena deciso in appello e confermato dalla Suprema Corte non ha ecceduto i limiti previsti dalle norme, anzi è ben inferiore al massimo consentito. Lo specifica la Cassazione nella sentenza della prima sezione penale depositata ieri e relativa all'udienza svoltasi il primo aprile. Salvatore Cuffaro, ricordiamo, ha ricoperto il ruolo di presidente della regione siciliana dal 17 luglio 2001 al 18 gennaio 2008 e attualmente si trova nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando la condanna a sette anni di reclusione per favoreggiamento personale e rivelazione di segreti d'ufficio, reati aggravati dell'aver aiutato Cosa Nostra. Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso 20 dicembre gli aveva negato l'affidamento ai servizi sociali è questa la seconda volta che l'ex governatore vede deluse le sue aspettative di uscire in anticipo dal carcere.